Si intentano riprendere i lavori di demolizione dei manufatti abusivi ad Agrigento, in questo caso nella zona A del Parco archeologico Valle dei Templi. Il comune di Agrigento fa sapere che le ditte interessate potranno manifestare il loro interesse tramite una domanda che dovrà pervenire all'ente entro e non oltre le ore 12 del 15 gennaio. Lo scorso dicembre l'amministrazione comunale aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori. L'importo a base d'asta della nuova procedura negoziata è di 33.136,17 euro. Questa non è che la seconda tranche degli interventi volti alla demolizione degli edifici abusivi. La prima, partita nell'agosto del 2015, arrasa al suolo otto immobili rientranti nella categoria dei beni giudicati abusivi da sentenze che andavano dal 1992 al 1999, lavori che sono costati al comune circa 80.000 euro. Adesso, per questa seconda fase, le strutture abusive da abbattere originariamente previste erano 13, 4 delle quali sono state però già autonomamente demolite. Il tema dell'abusivismo è un problema che quasi ogni comune della nostra provincia si ritrova oggi a dover affrontare, tra non pochi problemi mossi da motivi personali e tempi burocratici. Situazione scomoda per le amministrazioni comunali che intendono mettere in atto le ordinanze relative alla demolizione degli edifici abusivi. Lo scorso ottobre, ad esempio, il primo cittadino licatese cambiano era stato un passo dal rassegnare le dimissioni dalla sua carica, perché dopo mesi di lotta contro abusivi del suo paese si era ritenuto deluso e abbandonato dallo Stato. Le azioni di contrasto all'abusivismo non si sono fermate, però. Proprio in questi giorni, il comune di Licata ha firmato tre nuove ordinanze di demolizione.